Racing Podcast di due giorni dopo per parlare del Gran Premio dell'Arabia Saudita che ha regalato tanti spunti di riflessione dentro e fuori la pista Prima però di adentrarci nel secondo Racing Podcast stagionale per quanto riguarda la Formula 1 Ricordo che stasera alle ore 22 saremo in diretta sul canale Twitch del buon Fable Pendragon Con cui abbiamo fatto già l'analisi a freddo del GP del Bahrain Si replica oggi alle ore 22 e poi per chi non fosse in diretta su Twitch sul mio canale domani alle ore 21 Quindi mercoledì 30 marzo ci sarà la replica integrale della nostra diretta Ma andiamo a fare questo antipasto prima dell'approfondimento a freddo della gara di domenica dell'Arabia Saudita con appunto il Racing Podcast Una gara francamente che io non avrei neanche corso, sono onesto, entriamo subito in uno dei temi forti di questa gara che riguarda però il fuori pista Sapete per via del conflitto tra l'Arabia Saudita e Yemen che c'è stato un attacco da parte dei ribelli yemeniti a un condotto petrolifero della Ramco a pochi chilometri dalla pista Dopo tante riunioni e dopo anche delle pressioni a quanto pare del regime saudita la federazione internazionale ha deciso comunque di correre Riputando di fatto queste condizioni di sicurezza Io francamente ripeto non avrei corso perché comunque poteva esserci a comunque prescindere il rischio di un attacco anche durante la gara Comunque se c'è stato un attacco il venerdì era plausibile o comunque possibile aspettarsi Anche un'ulteriore reazione è evidente o comunque possiamo immaginare che nel frattempo non mi stupirei diciamo se il governo saudita avesse respinto con perdite Eventualmente questo gesto di attacco da parte degli yemeniti Fatto sta che in questo contesto che comunque era tutto fuorché sicuro la gara si è corsa Pronti via si perde subito un protagonista in qualificazione Mick Schumacher compie un incidente terribile in qualificazione appunto a 240 all'ora contro uno dei due muri della parte veloce del circuito di Jeddah Ed è uno degli altri motivi per cui io toglierei questa pista ed è il motivo di sicurezza Abbiamo visto che questa pista è velocissima, è molto bella ma evidentemente con delle vie di fuga scarse e inesistenti è una pista oltremodo pericolosa E questo è un altro punto che toccheremo stasera però quello che inconta è vedere la gara e come al solito partiamo dalla fine Vince Max Verstappen su Red Bull, podium che una volta tutto Ferrari con Charles Leclerc secondo e Carlos Sainz terzo È evidentemente il secondo indizio che può far la prova che quest'anno Ferrari e Red Bull saranno le scuderie da battere In una gara che ha regalato tantissime emozioni soltanto poi gli ultimi dieci giri Per il resto parliamo di una gara con distacchi ben cristallizzati e una Red Bull che comunque era la scuderia da battere quantomeno in questa pista Perché Perse si è inventato una proposition dell'anno con un giro clamoroso potuto nel terzo settore di Jeddah Ma poi un uomo al comando o meglio nelle retrovie ha deciso di cambiare tutta la gara e l'incidente di Nicolas Altifi è l'episodio di cui stiamo parlando Perché ancora una volta il canadese decisivo in qualche gara evidentemente da decidere per altre scuderie In questo caso incidente che causa safety car, il pilota per fortuna non si è fatto niente Ma è un incidente di proporzioni molto inferiori rispetto a quello di Mick Schumacher La Tifi di fatto causa una safety car che avvantaggerà tantissimo Leclerc e Verstappen che saranno protagonisti nel finale di gara Perez che era primo meritatamente dopo aver difeso la pole position e condotto per 16 giri su 50 Evidentemente dovrà pagare Dazio perché Perez si ferma prima dell'ingasso della safety car e si ritroverà a quarto Posizione che in realtà non lascerà più E c'è spazio dunque dopo una fase di studio molto lunga per 20 giri per quanto riguarda i due grandi protagonisti di questa gara Ovvero Max Verstappen su Red Bull e Charles Leclerc su Ferrari Questa è un'immagine emblematica del duello che hanno avuto l'olandese e il monegasco nella gara di domenica Una competizione che ha regalato veramente spettacolo Concentrata però soltanto negli ultimi 10 giri tra il duello tra quelli che verosimilmente saranno i due contender al titolo del mondo 2022 Un Verstappen e un Leclerc che equivale addirittura al doppio bloccaggio Segno che nessuno voleva farsi come dire superare o meglio Nessuno voleva arrivare primo all'ultima curva visto che in questa pista abbiamo visto che il DRS è estremamente potente E di conseguenza uscire per primo dall'ultima curva avrebbe comportato un grande svantaggio in rettilineo Perché l'inseguitore avrebbe avuto un boost di potenza talmente elevato che avrebbe avuto vita facilissima da fare il sorpasso Alla fine Verstappen complice una Red Bull che ha una velocità di punta ancora una volta mostruosa L'abbiamo visto qui a Jedda e un secondo settore da panico dove recuperava praticamente mezzo secondo Sulla Ferrari riesce alla fine ad averla meglio del pilota monegasco e dunque di conseguenza è la prima vittoria di stagione Per Max Verstappen che si riscatta dopo un Gran Premio del Bahrain che lo ha visto appiedato per problemi evidenti sulla Red Bull Problemi di affidabilità che peraltro si sono visti in altre auto vedi per esempio Alfa Romeo, Alpine e McLaren E' evidente come oltre due scuderie superiori alla concorrenza per il momento ovvero Ferrari e Red Bull L'affidabilità avrà un ruolo incredibilmente potente già a partire dalle prime gare di questa stagione Certo mi aspetto che nel futuro della stagione le macchine possano evolversi e dunque ridurre al minimo queste problemi di affidabilità Però non è la prima volta che vediamo un'ecatombe di macchine già in due gare Perché abbiamo visto in Bahrain due Red Bull e un Alfa Tauri fuori ai problemi tecnici Qui abbiamo visto Alonso, Ricciardo e Bottas fuori per gli stessi motivi Chissà che i problemi di affidabilità non possono anche influire sulla stagione dei due piloti più importanti Ovvero il vincitore di domenica Max Verstappen per il quale suona Helvi Lelmus E Charles Leclerc che fa un'ottima seconda posizione e dunque esce dalla due giorni del Medio Oriente Perché si è corso appunto due volte in una settimana Dove evidentemente è il leader del campionato con 45 punti, un primo e un secondo posto La Red Bull appunto c'entra la prima vittoria stagionale riscattando un orrendo GP del Bahrain Ed è una vittoria secondo me meritata per la Red Bull perché ha dimostrato di essere la macchina superiore Se in qualificazione si è evidentemente in gara vedendo questo secondo settore da paura E anche la capacità di Verstappen di recuperare così tanto rispetto alle Clerc Il favorito tecnico ovvero la Red Bull vince e peraltro mi fa zaccare il pronostico Perché appunto per via di questa macchina molto veloce come velocità di punta E per le caratteristiche del secondo settore di Jeddah evidentemente mi ha dato ragione La Ferrari però ha dimostrato ancora una volta di essere ancora una volta competitiva E evidentemente sarà il duello Ferrari-Red Bull Per una Ferrari che comunque completa il podio con Carlos Sainz III Sainz che in realtà ha fatto una solita gara da buon secondo pilota Mi verrebbe da dire un pensamento ancora una volta importante per il campionato costruttori Sainz dal punto di vista del distacco è rimasto molto attardato rispetto sia a Verstappen sia alle Clerc Lo sconfitto di turno è evidentemente Sergio Perez che secondo me meritava la vittoria Perché ha fatto 16 giri su 50 veramente mostruosi e una grande pole position Sfortuna ha voluto che la safety car abbia per lui rimescolato le carte La Ferrari dopo si è ritrovata in prima posizione grazie alla safety car di Latifi E poi alla fine Verstappen ci ha messo del suo per recuperare alla Red Bull Una vittoria che sarà di fondamentale importanza Visto che Verstappen ha già fatto 1-0 nelle prime due gare sognali Cosa che invece la Ferrari non ha fatto Gli altri piazzamenti qui andiamo un po' nella gara degli altri Perché evidentemente ancora una volta è lampante Come ci siano Ferrari-Red Bull superiore alla concorrenza E poi gli altri veramente a un'eternità E già George Russell che finisce quinto si prende di fatto mezzo minuto dai 4 leader della competizione Russell che comunque fa una onesta gara per quella che è la Mercedes attuale Ovvero una macchina lontana parente di quella che dominò gli anni passati Ma anche lontana parente di quella Ferrari che è vero L'anno scorso era terza forza ma almeno non perdeva mezzo minuto tutte le gare Russell sicuramente è un piatto a tenere d'occhio Certo è nel periodo più sfortunato della Mercedes Ripeto la Mercedes non va mai data per morta E mi aspetto evoluzioni da qui alla ultima gara di Abu Dhabi Però evidentemente Russell sta dimostrando quel pilota di talento che effettivamente è Anche perché oggi il più ritirato compagno di squadra ha fatto veramente pietà Sesto posto per Esteban Ocon che ha dato vita a un duello importante con Fernando Alonso Per le posizioni che di fatto non contano Ovvero le posizioni fuori dal podio ma che comunque valgono punti Per la classifica piloti è stato l'unico lampo di emozioni Secondo me la battaglia tra le due macchine rosa In questa prima fase di Gran Premio per poi concentrarci appunto nel duello Versailles-Leclerc Ocon è l'ultima alpina al traguardo Perché Alonso si è ritirato al termine di una gara o una parte di gara meglio Assolutamente pazzesca Settimo è Lando Norris che sfruttando anche i ritiri di piloti davanti a lui Vedi Bottas, vedi Alonso Riesce a portare punti a una McLaren che è veramente in disarmo Ottavo posizione per quanto riguarda la gara di Jedda è Pierre Gasly Che fa quello che può con Alfa Tauri che non è evidentemente a livello della Red Bull E non ci va neanche vicino Nona posizione per quanto riguarda la gara di Jedda è per Kevin Magnussen Altro pilota che si conferma su ottime prestazioni Il segno che anche le scudere sette della Ferrari Complici ai piazzamenti comunque del Bahrain E anche prima dei vari ritiri di Bottas e compagnia cantante Ha delle squadre che possono competere E il motore qui ha fatto tanto tanto la differenza Decimo invece è Lewis Hamilton Che incredibilmente compie una gara disastrosa Già a partire dalla qualificazione Ricordo che Hamilton l'anno scorso vinse a Jedda In quella gara tanto discussa con Max Verstapp In cui addirittura sedicesimo in qualificazione il pluricampione inglese E poi va a rimontare in decima posizione Hamilton in realtà prima della Virtual Safety Car Era in sesta posizione Avrebbe limitato i danni Partendo dalla sedicesima posizione Per quanto chiudere il sesto a mezzo minuto Sia limitare i danni In ogni caso è una gara che porta punticini Per un Hamilton che è veramente tanto indietro E la vedo dura che possa vincere il titolo del mondo Certo sono solo due gare Vero la Mercedes non va mai data per morta Ma attenzione perché evidentemente È chiaro come la Mercedes sia terza forza Ma decisamente staccata In alcune situazioni addirittura Le scuderie che un tempo erano inferiori Vedi per esempio Alpine, Alfa Romeo Ma la stessa Haas Se la potevano giocare addirittura con questa Mercedes in gara Il che è clamoroso appunto Visto anche da dove si arrivava Rispetto allo scorso anno Gli altri piazzamenti sono Abbastanza platonici Ancora una volta i motorizzati Mercedes Fanno una fatica incredibile Perché di fatto le ultime tre posizioni Sono motorizzati Mercedes con le due Aston Martin D'illusione colossale Di queste prime due gare E la Williams che faceva schifo l'anno scorso Con le macchine vecchie Fa schifo anche quest'anno Con le macchine nuove Passiamo ai premi del driver del giorno E incredibilmente io il driver del giorno Lo do a un pilota Che in realtà si è ritirato Perché il mio premio è Fernando Alonso Fernando Alonso ha fatto una gara suntuosa Fino a quando la Power Unit non l'ha abbandonato Causando la Virtual Safety Car Che ha danneggiato Hamilton In questo caso Alonso comunque prima del ritiro Era in posizioni molto nobili della classifica Con una macchina assolutamente inferiore Rispetto alle altre Perché l'Alpine se la gioca con questa Mercedes Per modo di dire Nel senso che in realtà In condizioni normali Questa Mercedes pur depotenziata Sta davanti alla macchina rosa Il problema è che appunto La macchina rosa ha un pilota di estremissimo talento Come Fernando Alonso Che ancora una volta Nonostante i 40 anni Ha dimostrato di saperle suonare e cantare alla gente Soprattutto al suo compagno di squadra Che è molto bisogno di lui E era molto incensato Anche nella categoria giovanile Ovvero Esteban Ocon Infatti il duello come dicevo Tra le due macchine rosa È forse il momento più bello Della prima parte della gara Una gara che comunque poi ha riservato Un gran duello in volata Tra Leclerc E Verstappen Con Verstappen vincitore Ma Alonso per la gara che ha fatto E per il mezzo che dispone Ha fatto una gran gara E per me Dunostante si è ritirato È il driver del giorno Senza se E senza ma La delusione del giorno È invece Chi è arrivato decimo Ovvero lui Semilton Io capisco Che la macchina è depotenziata Capisco Che ci sono tante difficoltà Ma Limitare i danni Non vuol dire decima posizione Ripeto La decima posizione È arrivata anche per figlio Della safety car virtuale Che è stata accoglata Da Alonso Bottas e Ricciardo Ma comunque un pilota Del suo talento Perché Hamilton È un gran bel pilota Nonostante abbia sempre avuto Spesso Macchine competitive E se non le migliori Deve comunque Arrivare a pezzare Sopra i problemi Ovvio Questa Mercedes È inguardabile Ma Russell A parità di macchina È arrivato quinto Molto davanti a Lewis Hamilton Segno che comunque Il pilota inglese Si è adattato Meglio Alla pista di Jed Rispetto al pluricampione Del mondo Lewis Hamilton Sarà da valutare Hamilton Magari in altre piste Magari dove non ci sono Dei grandi Ascuti di motore Delle grandi accelerazioni Vedremo in Australia Che è una pista Molto più guidata Se la Mercedes Potrà limitare i danni Anche se è chiaro Ed evidente Come già dopo due gare La Mercedes Si è la terza forza Di questo campionato Quindi ci si rivede In Australia Per quanto riguarda La Formula 1 Non ci si rivede In Australia Per quanto riguarda La Formula 2 Una Formula 2 Che vede Felipe Drugovic Come leader Di campionato Un Felipe Drugovic Che fa due podi Nelle due gare Del sabato e della domenica Vince la gara 2 Per il quale suona In settore brasiliano Seconda posizione Per Ricard Vescor Pilota olandese Del team Trident Quindi team italiano In seconda posizione Grande crescita Del pilota olandese Vescor Che l'anno scorso Era un comprimario E quest'anno Complici anche Una gran macchina Del team Trident Fa punti Nelle gare che più contano In questo caso La feature race Terza posizione Per Ihan Daruvala Pilota di un altro team italiano Il team Prema Che ha da tanto Da recriminare Soprattutto per quanto riguarda La gara 1 Ma poi arriviamo Ihan Daruvala Ricordo però È un pilota Dello junior team Della Red Bull La gara 1 Invece la vince Quello che era Il leader del campionato Dopo sabato Ovvero Liam Lawson Per il quale suona God Defend New Zealand Per la terza vettoria Di carriera del neozelandese Lawson peraltro Dovrà ritirarsi Dopo un problema Al pit stop Lawson avrebbe Incredibilmente vinto In realtà la gara Lunga di Jedda E invece è costretta Ad abdicare Lasciando la leadership A Drugovic In un campionato di F2 Comunque molto equilibrato Seconda posizione Per Yuri Vips Piota del team High Tech Grand Prix Pilota molto talentuoso Che io seguo Con tanto interesse E che ha avuto Anche lui Abbastanza sfortuna In gara 2 Diciamo Per via di una qualificazione Infelice E terza posizione Per Felipe Drugovic Che anche lui qui È fortunato Perché terzo In realtà sarebbe arrivato Jake Hughes Con il neonato team Van Avers For Racing E invece Dopo la squalifica Dell'inglese Drugovic va a podio E di conseguenza Il leadership del campionato Chi deve tanto recriminare È Dennis Hauger Che fa sesto In gara 1 Complici una strategia Comunque interessante Con stint 1 Con gomme dure Stint 2 Con gomme morbide Il problema È che Hauger Avrebbe vinto La gara sprint Il problema È che la direzione gara Ha deciso di boicottargli La gara Perché causa L'ennesima safety car Che ha causato 10 giri su 20 Dietro la vettura di sicurezza Hauger E tutte le altre macchine Avrebbero dovuto passare In pit lane Il problema È che la direzione gara Comunica prima Questa cosa al norvegese E poi decide Di chiudere la pit lane Hauger fa per andare In pit lane Gli altri proseguono Hauger poi verrà penalizzato In modo inspiegabile Dalla direzione gara Con uno stopping Di 10 secondi Per aver attraversato La pit lane In quanto chiusa Ma questa è un'incongruenza Incredibile Della direzione gara Che è vero Ha cambiato Michael Masi Che fu Reo di cose pantagrueli Che agedda In Formula 1 L'anno scorso Ma non che il direttore Nuovo di gara In questo caso Il brasiliano Freitas Abbia fatto meglio Hauger finisce ultimo Ma penalizzato Ma doveva praticamente vincere La prima gara Della carriera In Formula 2 E anche questo È un altro tema Di discussione interessante Hauger comunque Rimedirà con un buon Sesto posto E lo vedremo comunque A Imola Insieme agli altri eroi Della Formula 2 E della Formula 3 Parentesi Per quanto riguarda Altri parti che seguo Molto interessantemente È Djembo Lukbasi Pilota turco Che viene Come dicevo Nella presentazione Della Formula 2 Dal sim racing È un pilota Che ha fatto Importante gare In Formula 3 asiatica È arrivato quarto In debutto in Formula 2 Ha fatto top 15 Che non è malaccio Per un pilota Che ha pochissima esperienza Con le vetture vere Purtroppo Un grave incente in qualificazione O meglio nelle libere Lo estromette dalla gara Ma comunque è un pilota Che vedrò Io mola con tanto interesse Visto che io Nel mio piccolo Gioco ai giochi di guida Sono più bravo a GT Che a Formula 1 Ma non sono ovviamente I livelli di eSport Sono anche qui Un amatore Così come amatoriale Anche questo canale sportivo Vi ricordo Stasera Alle ore 22 Sul canale Twitch Di Fable Pendragon La diretta Per il commento a freddo Del GP L'Arabia Saudita In tutto tondo Sia fuori Che dentro alla pista Questa è la classifica Del campionato Fatemi sapere Cosa è pensato Ovviamente In un commento Qui sotto E saluto Da parte di Metotorger Ci vediamo domani Con la replica Della diretta E poi In weekend Arriverà il primo video Sulla Superbike A una settimana Dall'inizio Del campionato mondiale